Giornata di consiglio regionale all'Aquila, sul piatto ancora una volta la questione della sesta commissione sull'acqua che una parte di maggioranza vorrebbe rendere permanente, ma non la Lega che mantiene la sua posizione. I salviniani chiedono agli alleati di Fratelli d'Italia, Gruppo Mista e Forza Italia di archiviare la proposta di legge per l'istituzione della sesta commissione permanente, quella in sostanza che si è occupata dell'emergenza idrica con Sara Marcozzi presidente che ormai è prodata nel centro-destra. Proprio questo progetto di legge ha spaccato la maggioranza con la Lega nell'ultimo consiglio che si è schierata col fronte del no di PD e 5 Stelle costringendo Forza Italia e Fratelli d'Italia ad un dietro fronta. La tregua sarebbe stata sancita in una recente riunione a Pescara ma le cose ancora non sono chiare. Nessuna tregua, spiega la Lega, ma una riunione è normale. Noi ci siamo già espressi in consiglio regionale, peraltro abbiamo in parallelo una proposta similare che riguarda l'istituzione di un tavolo tecnico sul tema idrico o comunque abbiamo degli emendamenti che modificano quella proposta di istituzione della commissione con l'assegnazione di alcune funzioni delle commissioni già esistenti rispetto ai temi dell'idrico. Quindi la nostra posizione è chiara, l'abbiamo spesso in consiglio regionale, l'abbiamo spesso sulla stampa, certamente non cambiamo idea rispetto al dato finale. Cioè siamo assolutamente pronti ad affrontare con una certa veemenza i temi legati al sistema idrico in generale, ma chiaramente non con la creazione di una nuova commissione. C'è stata una riunione a Pescara nei giorni scorsi, c'è una tregua con gli alleati? Credo che una maggioranza composita ogni tanto si debba vedere per affrontare le questioni sul tavolo, per parlare degli ultimi mesi di legislatura, per affrontare i temi legati al rapporto tra gli alleati. Assolutamente non c'era bisogno né di una tregua né di altro, c'è bisogno che una maggioranza si confronti con i propri leader regionali costantemente per tenere sotto controllo tutte le attività che ponen essere il consiglio regionale. Peraltro non si è parlato solo esclusivamente di questioni regionali, ma anche di questioni amministrative rispetto ad altri comuni, quindi c'è un classico e normale incontro tra partiti di maggioranza.